In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti. In apertura di questa edizione c'è la pagina di cronaca. La diocesi di Piazza Armerina esprime la massima fiducia alla magistratura sulle indagini per corruzione e truffa che ha coinvolto il prete Giovanni Tandurella, parroco della cattedrale di Piazza Armerina, che insieme con due consiglieri comunali a Gela e a un imprenditore ha illecitamente ceduto e gestito un centro di assistenza per anziani. Secondo la procura il prete ha intascato soldi per scopi personali, sono stati sequestrati conti correnti e immobili a lui riconducibili. Il focus dell'indagine è una casa di riposo per anziani. Le ipotesi di reato sono corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, a faltità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, circonvenzione di incapace, truffa, appropriazione in debita e riciclaggio. Nella vicenda giudiziaria sono coinvolti Don Giovanni Tandurella, parroco della cattedrale di Piazza Armerina, che è stato arrestato dai domiciliari. Due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Gela, Sandra Bennice, Salvatore Scerra e l'imprenditore Renato Mauro, per i quali il GIP del Tribunale Gelesa ha disposto il divieto di esercitare per un anno uffici, direttivi, imprese o società e l'obbligo di presentazione per la firma alla Polizia Giudiziaria. L'operazione che porta il nome di avarizia è avuto origine nel gennaio di due anni fa da parte dei carabinieri che hanno documentato, dopo la segnalazione dei familiari di alcuni anziani, il peggioramento delle condizioni di vita dei propri cari e un rialzo ingiustificato delle quote di compartecipazione alla retta dell'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza di Gela, dove erano ricoverati operanti sotto il controllo della regione siciliana. Secondo l'accusa, l'Istituto è stato illegittimamente ceduto da una società privata di Gela operante nel settore dell'assistenza sanitaria per disabili gestita dall'imprenditore gelese e da uno dei due consiglieri comunali. L'altro rappresentante del civico contesto di Gela, secondo l'indagine invece, ha agevolato la cessione della casa di riposo. Il sacerdote arrestato, che risulta legale rappresentante dell'Istituto Pubblico, senza osservare le procedure previste dalla normativa in materia di appalti pubblici, ha, secondo la procura, svenduto la struttura cedendole in locazione alla società privata a un canone inferiore a quello di mercato, ottenendo in cambio a favore di varia natura e somme di denaro versate ad un suo familiare. Con lo stesso provvedimento è stato altresì disposto il sequestro preventivo di un immobile del valore di circa 75 mila euro e di diversi conti correnti riconducibili al prete di Enna. La diocesi di Piazza Armerina ha espresso la massima fiducia nell'operato della magistratura, auspicando che al più presto venga fatta chiarezza sui fatti avvenuti nelle sedi opportune. Al vescovo Monsignore Rosario Gisane è arrivata la notizia della quest'uida cautelare della prete e della sua diocesi, mentre è impegnato nel tavolo della conferenza episcopale italiana per votare il nuovo presidente dei Vescovi. Ci sfostiamo a Palermo. Cene ed eventi dietro la maschera del no profit. È stata scoperta dalle fiamme gialle un'evasione da 140 mila euro da parte di un'associazione che si prefiggeva a finalità di promozione culturale, ma si sarebbe comportata come una qualunque società a carattere commerciale. Redditi non dichiarati per oltre 140 mila euro ottenuti attraverso cene, serate danzanti e concerti musicali che coinvolgevano un numero di partecipanti notivolmente superiori degli associati. È quanto scoperto dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo che hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un ente no profit costituito sotto forma di un'associazione con finalità di promozione culturale e artistica la cui invece attività non si è svolta secondo i canoni prescritti per gli enti no profit pertanto è stata considerata come commerciale. È lontano da quanto si prefiggeva nel proprio statuto sociale ovvero elaborare, diffondere e realizzare progetti di solidarietà sociale tra cui l'attenzione di iniziative socioeducative, culturali, benefiche e filantropiche di promozione umana. Tuttavia nel corso delle operazioni di verifica è emerso che gli eventi organizzati hanno permesso di incassare centinaia di migliaia di euro eventi che hanno coinvolto come detto un numero di partecipanti notevolmente superiori agli associati i quali invece sarebbero dovuto essere gli unici destinatari di ogni iniziativa. Dal momento in cui la natura giuridica dell'associazione è stata equiparata a una società di persone composta da fondatori dell'associazione individuando gli eventi organizzati dalla società dal 2015 al 2019 i finanzieri hanno ricostruito un arreddito non dichiarato al fisco per un totale di 147.288 euro e un IRAP sottratta a sassazione pari a 136.614 euro. Un ragazzo omosessuale di 22 anni lo scorso sabato è stato aggredito a Catania mentre stava rientrando a casa uno sconosciuto gli si è scagliato contro e ha provato ad accoltellarlo con un cacciavite. Il 22enne ci racconta quanto accaduto. A Catania siti troppi froci. È l'oribile frase che è stata rivolta a Paolo Fiore un ragazzo omosessuale che sabato sera mentre rientrava a casa è stato aggredito da uno sconosciuto che ha provato anche ad accoltellarlo con un cacciavite. Il tutto è stato denunciato alla polizia e Paolo Fiore lo ha voluto scrivere anche nei suoi canali social affinché gesti del genere non passino inosservati. 22enne, Paolo è uno studente di lingue e culture moderne all'Università degli Studi di Catania ed è un attivista. Stavo arrivando a casa ad un certo punto questo tizio si è praticamente fermato con questo grande punto grigio metallizzata è sceso dalla macchina sicuramente in parte voleva rapinarmi perché già comunque sono state fatte altre denunce e quindi mi avrebbe a prescindere rapinato però il problema è che mi sono state dette delle cose specifiche è stata indicata una parte specifica del mio zaino quindi io direi che forse solo rapina non è. Nel tuo zaino tu avevi appunto una bandiera che indica questo orgoglio. Bandiera delle spillette arcobaleno che comunque rimandassero alla comunità LGBTQIA+. Quindi lui da là poi appena le ha viste si è fomentato e mi stava pugnalando letteralmente non so se fosse precisamente un cacciavite o una chiave a croce ma io proprio credo che sia un cacciavite un cacciavite di colore verde. L'ho colpito al viso poi ha indietreggiato ha continuato con gli insulti omofobi ovviamente e poi nulla io l'ho minacciato di chiamare la polizia lui è scappato verso la macchina io l'ho inseguito ho fatto le foto al grande punto con la targa dopodiché l'ho denunciato immediatamente. Voi chiedete una legge specifica? Sì, il DDL Zanno ovviamente che non è stato approvato al Senato io mi chiedo questi senatori e senatrici cosa stiano aspettando a farlo anche perché io quando sono andato a denunciare mi è stata riconosciuta soltanto la rapina ma questa non era solo una rapina era anche qualcosa di più. Commercio all'ingrosso di libri ed evasione fiscale sequestro da 300 mila euro nel Messinese da parte della Guardia di Finanza ha sospeso un imprenditore ad insospettire i militari l'indicazione nel bilancio aziendale del 2016 di 18 bancali di libri del valore di oltre un milione di euro di cui si aveva traccia documentale in contabilità fino all'agosto del 2018. Avevano creato un articolato sistema di frode fiscale con un sistematico e reiterato ricorso all'evasione fiscale con pregiudizio per le casse dello Stato all'interno di una società attiva nel commercio all'ingrosso di libri. A Messina la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti della società e del suo rappresentante legale colpito dal divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di otto mesi. Le fiamme gialle hanno sequestrato denaro e beni per un valore complessivo di oltre 300.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura. Nel corso di controlli e accertamenti l'attenzione degli specialisti di pulizia economico-finanziaria è stata tratta dall'indicazione nel bilancio aziendale del 2016 tra le rimanenze di magazzino di ben 18 bancali di libri del valore di oltre 1.200.000 euro un rilevante importo di cui tuttavia si aveva traccia documentale in contabilità fino all'agosto del 2018. Sentito dagli investigatori il rappresentante legale aveva prodotto documentazione attestante il trasferimento di questo imponente materiale in un magazzino di un'altra società situata a Siracusa. In un successivo sopralluogo però è stato scoperto come all'indirizzo indicato corrispondeva un'abitazione e anche il postino sconosceva la società oltre a non essere presente alcun dipendente. Ad aggravare la posizione del rappresentante legale la sua storia imprenditoriale si era già reso infatti protagonista insieme a un socio di condotti analoghe società gestite fino alla soglia dello stato di insolvenza poi oggetto di cessione di quote e cambio di amministratori con successivi cambi di sede e denominazione prima di indirizzarsi verso il più annunciato fallimento. Per queste ragioni le condotte investigative sono state ritenute non estemporanei occasionali ma la risultante di un più complesso programma delittuoso rappresentativo di una capacità criminale ben più strutturata. È stata sospesa la licenza per 15 giorni ad un bar tabacchi nel lungomare di Gela in quanto ritrova abituale di pregiudicati. All'interno del bar tabacchi nel corso dei controlli sono state identificate diverse persone gravate da pregiudizi di polizia. le forze dell'ordine hanno da tempo intensificato i servizi di controllo del territorio nel comune di Gela con particolare attenzione al centro storico. Il terzo provvedimento di chiusura è messo in un anno dal questore nei confronti di bar dove si incontrano soggetti gravati da condanne. centri estetici e medici abusivi controlli dei carabinieri del NAS su tutto il territorio nazionale su 793 strutture controllate sono state sanzionate 110 strutture irregolari. Su 793 strutture controllate in tutta Italia tra centri estetici e studi medici estetici i carabinieri del NAS hanno sanzionato 110 strutture perché irregolari sequestrati o sospesi 8 centri estetici e 3 strudi medici poiché abusivi o privi dei requisiti minimi per il funzionamento. In tutta Italia sono stati accertati complessivamente 41 illeciti penali. E questo è il bilancio dei controlli che hanno coinvolto anche la Sicilia controlli indirizzati a verificare l'ideonità tecnica dell'interessatura impiegata la sussistenza dei requisiti igienico-strutturali e organizzativi il possesso delle autorizzazioni e la presenza di qualifiche professionali con riguardo in particolare l'applicazione di filler in pianti cutanee e altre procedure. In Sicilia a Catania è stato scoperto un centro estetico utilizzato impropriamente come ambulatorio di medicina estetica. La titolare è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria perché sprovvista di titoli professionali abilitanti e per aver avviato un'attività medico-estetica in difetto della prescritta autorizzazione sanitaria. A Trapani i militari presso un ambulatorio odontoiatrico hanno sequestrato un dispositivo elettromedicale di medicina estetica per le attività mediche di radiofrequenza ed elettroporazione del valore di 40.000 euro e denunciato due odontoiatri uno dei quali titolari dell'attività ritenuti responsabili di aver esercitato la professione di medico-chirurgo praticando trattamenti medico-estetici in assenza del titolo abilitante e anche per aver consentito lo svolgimento di trattamenti in assenza di autorizzazione esponendo ingiustificatamente i pazienti a radiazioni ionizzanti senza aver documentato esigenze e i vantaggi diagnostici e terapeutici né di avere preventivamente informati i pazienti circa i rischi benefici connessi alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica complessivamente sono stati denunciati in tutta Italia 33 titolari operatori e contestate complessivamente sanzioni amministrative per 187.000 euro c'è anche la Sicilia tra le regioni sottoposta a controllo dalla guardia di finanza contro la pirateria agroalimentare oltre 105 le tonnellate di grano per cui sono emerse varie ipotesi illecite quali l'utilizzo di semi sprovvisti della prescritta certificazione la vendita di grano di varietà protette senza aver assolto i relativi obblighi e la miscelazione di grano con altro di differenti varietà sono oltre 105 le tonnellate di grano duro sequestrate in diverse regioni d'Italia dalla guardia di finanza nel corso di un'operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare condotta e collaborazione con SICASOV la società cooperativa di interesse collettivo agricolo dei selezionatori costitutori i controlli sono stati svolti dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Bari Potenza Palermo Caltanissette Agrigento dalle compagnie di Termoli e San Severo e dalla tenenza di Castellaneta Dalle analisi effettuate sono emerse varie ipotesi leciti quale l'utilizzo di semi sprovvisti dalla prescritta certificazione la vendita di grano di alcune varietà protette senza aver assolto i relativi obblighi e la miscelazione di grano con altro di differenti varietà Gli esami genotipici sui campioni prelevati sono stati condotti presso il laboratorio Crea di Foggia specializzato nel settore 5 le persone denunciate alle competenti procure della Repubblica per fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale Cambiamo adesso argomento riforma balneari avvio delle gare per assegnare le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023 ma con possibilità per i comuni in alcuni casi di rinviare le procedure fino al 31 dicembre 2024 questa la proposta di mediazione dal governo con la riformulazione del vice ministro allo sviluppo economico dell'emendamento sul tavolo di una riunione di maggioranza di oggi per provare a sbloccare l'impasse sulla delega sulla concorrenza e per rispondere alla sollecitazione del premier Mario Draghi a portare la riforma della concorrenza 32 articoli ancora tutti da votare in commissione in aula al Senato entro il 31 maggio l'emendamento si articola in due punti e interviene sui tempi delle gare e sugli indennizi il testo rispecchia nelle linee generali un'ipotesi di mediazione emersa la scorsa settimana parliamo adesso dell'attuale situazione dei contagi in Sicilia i nuovi casi di positività al covid-19 nelle ultime 24 ore registratisi in Sicilia sono 2.957 a fronte di 23.949 tamponi processati nell'isola ieri i nuovi positivi erano 731 il tasso di positività sale al 12,3% ieri si era fermato al 9,5% la Sicilia è al quarto posto per contagi le persone attualmente positive sono 82.018 con una diminuzione di 1.661 casi le persone guarite 5.442 mentre le vittime sono 16 porta nel totale dei decessi a 10.878 sul fronte ospedaliero le persone ricoverate sono 633 due in meno rispetto al giorno precedente in terapia intensiva lo stesso numero di ieri ovvero 33 su scala provinciale Palermo conta 606 casi Catania 1.206 Messina 484 Siracusa 412 Trapani 253 Ragusa 231 Caltanissetta 201 Agrigento 340 Enna 64 Verranno chiamati uno per uno i circa 50.000 cittadini della provincia di Catania destinatari della quarta dose ma che ancora non hanno effettuato a volere questo ufficio è stato il commissario per l'emergenza covid etneo Pino Liberti Noi la stavamo invitando a fare la quarta dose per i soggetti fragili o per 80 o con patologie se volesse è disponibile un servizio di vaccinazione gratuita domiciliare dove lei decide il giorno concordate con un medico o un infermiere e verrà direttamente a casa vostra il personale a vaccinare Sono circa 50.000 i catanesi che devono effettuare la quarta dose del vaccino contro il covid dose destinata a over 80 ospiti RSA e over 60 fragili per intracciarle è stata attivata una task force un ufficio della struttura commissariale preposta a fornire tutte le informazioni gli operatori all'ufficio infatti contattano le persone una ad una raggiungendo così quanti non hanno ancora fatto la seconda dose booster perché non correttamente informati per scetticismo o difficoltà oggettive riusciamo a chiamare circa mille over 80 che hanno diritto alla quarta dose e devo dire che il feedback è molto positivo molti di questi anziani non sapevano neanche che fossero i destinatari della quarta dose quindi accolgono con molto favore questa iniziativa vengono a vaccinarsi e tanto per darvi un dato in questi quattro giorni abbiamo messo insieme circa 400 vaccinazioni domiciliari che sono già partite e che stiamo andando a fare casa per casa nei prossimi giorni si chiameranno anche gli over 60 perché nella quarta dose rientrano anche loro se fragili chiameremo anche gli over 60 fragili e se ci riusciamo chiameremo anche i cittadini che avendo fatto la seconda dose poi non hanno proseguito non hanno fatto la terza perché questi cittadini adesso sono molto meno protetti o per nulla protetti ed è opportuno che lo facciano è qui per la quarta dose sì per la quarta dose mi hanno detto di venire qua inviamo subito mi hanno chiamato di venire qua perché a Garibaldi è chiuso già si sente più sicura facendosi la quarta dose noi siamo un po' coniziani bisogna farlo il decreto operai risparmiando sulla sicurezza nei cantieri e il decreto legge aiuti è stato approvato dal governo nazionale proprio per sostenere le imprese edili la ragusa catania potrebbe ripartire grazie a questo provvedimento l'itero ha subito un rallentamento nella fase dell'inizione della gara d'appalto per il ricorso presentato dal lance che ha chiesto ad anas il governo regionale di rimodulare il prezzario perché non ci sono le condizioni per sostenere i costi dei materiali della mano d'opera sono quasi 10 miliardi di euro 3 miliardi e mezzo per intervenire sui cantieri già in essere e un miliardo e mezzo ogni anno dal 2022 fino al 2026 quindi un miliardo e mezzo ogni anno per questi anni e per invece le opere che dovranno essere appaltate la ragusa catania ad esempio è certamente una di queste quando potranno essere disponibili le somme del DL aiuti alla regione siciliana per la SS 514? sono già immediatamente disponibili il sottosegretario ha lanciato un appello al presidente della regione Nello Musumeci che è il commissario straordinario dell'opera a noi risulta un'interlocuzione in corso tra ANAS e governo regionale Musumeci deve prorogare di 45 giorni termini di presentazione e contestualmente deve aumentare il prezzario del 15% così come dice la norma l'articolo 26 appunto del decreto aiuti che ha fatto il governo la copertura è interamente a carico allo Stato nazionale e non vede il motivo per il quale non si debba andare incontro e ho avuto rassicurazioni da parte di Angeli che se dovesse avvenire sono pronti a ritirare il ricorso ci sono rassicurazioni da parte dell'assessore regionale e delle infrastrutture Marco Falcone rispetto alla realizzazione del lotto Pozzallo-Modica dell'autostrada a Stina Cosa Gela e al regolare pagamento degli stipendi ma in ogni caso il sottosegretario è pronto ad accogliere l'eventuale avvertenza del CAS al Ministero sull'altra parte del CAS noi abbiamo dato 550 milioni di euro intanto per il lotto alla Modica Scigli perché qui ci vogliamo arrivare vorrà dire che li convocherò tutti al Ministero sia le aziende che stanno lavorando che anche il CAS per poter capire come risolvere questo problema perché noi a Modica ci dobbiamo arrivare e questo lotto deve essere completato nel più breve tempo possibile anche perché e continuo a ripeterlo i soldi ci sta mettendo lo Stato e quindi noi vogliamo che comunque quest'opera anche se affidata ad un congestionario pubblico deve comunque essere completato L'informazione continua subito dopo una pausa pubblicitaria tra poco Seconda parte del nostro telegiornale il rifugio sanitario per cani di Ispica avrà una nuova vita la struttura andata distrutta in un incendio e mai fruita sarà recuperata e diventerà agibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione a darne notizia l'amministrazione comunale ispicese Un nuovo rifugio sanitario per cani sorgerà dalle ceneri della vecchia struttura incendiata nel 2012 pochi giorni prima in attesa dell'autorizzazione dalla sua apertura e questa l'ultima novità riguardante il territorio di Ispica ci troviamo in contrada speziale alle mie spalle la struttura appunto che è stata incendiata e che verrà recuperata con i fondi sbloccati grazie all'intervento della Regione siciliana è una campagna che io porto avanti da anni prima di tutto come volontaria sul territorio per cui il mio interesse primario per quanto riguarda il ramo randaggismo è stato proprio quello di cercare di trovare delle risposte fattive siamo riusciti in questo e di questo sono molto contenta curare il discorso randaggismo significa avere ripercussioni positive anche non sul piano animalista significa cura del territorio significa anche creare una realtà salubre perché qui si lavora molto col turismo nella fascia costiera il territorio ispicese è molto vasto questa amministrazione non aveva inserito nel proprio programma azioni per sostenere la causa animalista per puro vestillo o propaganda ma con scelte di bilancio ha sottolineato il sindaco di Ispica abbiamo ricevuto da parte della giunta regionale di governo l'assegnazione di un finanziamento di 100.000 euro per la realizzazione di un nuovo canile per noi questo è un momento importantissimo perché il fenomeno del randaggismo è da noi controllato ma con situazioni che meritavano di essere definite attraverso una struttura presso la quale ospitare gli animali abbiamo una rubrica dell'assessorato dedicato proprio al randaggismo la nuova struttura porterà alla risoluzione di un problema di carattere sociale e di ordine ha specificato il dottor Pierluigi Canizzaro referente per la polizia locale per il fenomeno del randaggismo un fenomeno per il quale si batte da sempre un gruppo di volontari del gruppo Leida che segue le sorte dei randaggi in collaborazione con l'associazione Sicilia Love and Food al momento c'è a supporto una struttura d'appoggio incontrata a Castiglione in territorio di Ragusa e i volontari spiegano come sia stato fondamentale il supporto dell'amministrazione che nel corso della conferenza stampa ha snocciolato i numeri dal loro insediamento momento in cui il numero dei cani ammontava a 200 da quel momento il numero si è ridotto adesso ce ne sono 117 i cani adottati sono 320 molti dei quali non passati dalla gestione del comune 285 le sterilizzazioni 40 gli affidi fondamentale la collaborazione dell'ASPA anche per le microcippature l'arrivo dei fondi rappresenta dunque un punto di svolta parliamo dell'interporto di Catania sottoscritta intesa tra regione società interporti siciliani e terminali Italia per la gestione del nuovo polo intermodale il nuovo interporto sarà pronto a luglio regione siciliana società interporti siciliani e terminali Italia hanno sottoscritto questa mattina un accordo per la futura gestione del polo intermodale e l'interporto di Catania polo che sarà pronto all'incirca tra 45 giorni la società terminale Italia si occupa della gestione integrata dei servizi il primo e ultimo miglio ferroviario nell'ambito di infrastrutture di trasporto quale appunto il polo intermodale costruito a poca distanza alla stazione ferroviaria di Bicocca stiamo riuscendo invece a mettere in rete anticipatamente un'infrastruttura proprio per consentire che appunto le nostre infrastrutture in Sicilia possono essere gestite governate e possono diventare produttive noi riteniamo che l'infrastruttura sarà pronta da qui a 45 giorni sono gli ultimi dettagli sostanzialmente il 98% dell'opera è già completata e riteniamo che già entro luglio possa entrare in funzione oggi noi siamo già presenti a Catania come sapete a Catania di Bicocca abbiamo già un termine intermodale ma come gruppo ferrovie dello Stato abbiamo noi l'obiettivo di incrementare la quota modale perché c'è un obiettivo di sostenibilità ambientale e dobbiamo spostare camion dalla strada al ferro per far questo servono queste infrastrutture la regione attraverso la società interporti siciliani sta per ultimare e mettere in funzione l'opera utile allo scambio delle merci gomma ferro tramite questo accordo di rete tramite questo contratto di rete si andranno a diciamo gestire quelli che sono le attività di primo e ultimo miglio ma soprattutto si andrà a fornire dei servizi atti a spostare il flusso di merci dal tutto gomma all'intermodale quindi gomma rotaglia quindi questa diciamo è la sinergia che si verrà a creare anche in prospettiva quindi nella previsione di un flusso di commerciale molto più ampio sia per quanto riguarda le logiche europee della logistica sia per quanto riguarda l'aumento la previsione di aumento della diciamo commerciale nel porto di Catania quindi era necessario andare ad attuare e trovare un asset di questo tipo in maniera da offrire un servizio competitivo e naturalmente in termini di qualità ed economicità e con questo servizio è tutto grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Video Mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti